È stata presentata presso il Comune di Fano dal Sindaco Massimo Seri e dal Presidente del CB Club Mattei di Fano, Saveri Olivi, la campagna di comunicazione per informare la popolazione su possibili scenari di rischio e sulle situazioni di pericolo determinate da eventi naturali come terremoti, alluvioni o anche pericoli derivanti dalla stessa attività dell'uomo. La protezione civile si è concentrata primariamente sul lavoro di informazione diretta ai cittadini che potranno attraverso social, pagine web e altri strumenti di informazione tecnologica avere un'adeguata preparazione su come comportarsi correttamente in caso di estrema necessità. Tre video esplicativi, due dedicati al terremoto e uno alle alluvioni, chiamati pillole di sicurezza realizzati dal regista Erri Secchiaroli, mostreranno con chiare animazioni come comportarsi ogni qual volta si palesa uno stato di necessità. Per quello che riguarda Fano, per l'emergenza siamo veramente un'eccellenza, che è l'incontro di due sensibilità. Una è quella della protezione civile, fatta di volontari professionisti, uso questa parola perché sono persone di grande competenza e l'altra di una sensibilità che ha un'amministrazione proprio nel voler essere sempre preparati e pronti perché le emergenze sono imprevvise e non si è mai fondamentalmente preparata all'emergenza perché come dicevo non ti avverte e ogni volta è una situazione diversa. E quindi un lavoro importante come quello che stiamo facendo è quello di informare e formare. Se andiamo a vedere le tragedie, purtroppo le persone muoiono per comportamenti banali. Ecco, quindi non bisogna dare nulla per scontato. L'amministrazione comunale informa anche che da settembre-ottobre riprenderanno gli incontri in presenza dei cittadini per l'informazione diretta nei quartieri, in modo tale che oltre a ricevere le informazioni necessarie, in presenza si possano fare domande dirette sui possibili scenari di rischio e il relativo comportamento da tenere. Il primo a salvaguardare la propria incolumità è il cittadino stesso. Quindi è da anni che stiamo pensando a una cosa del genere, come arrivare direttamente alla massa delle persone, più un numero importante. Abbiamo fatto delle esercitazioni nei quartieri, ben quattro, però presenti erano 80-100 persone. Da qui un progetto presentato al Comune di Fano che ce l'ha finanziato e consiste nella proiezione sui social e sulle tv di tre spot in pratica video per le buone prassi di comportamento in caso di terremoto, in caso di rinvole, in caso di calamità. Novità assolute di grande importanza, il nuovo COC di Fano in via Borsellino, che dal mese scorso è stato implementato con 15 computer e una stanza totalmente dedicata alla ricezione delle chiamate, organizzate in modo che l'utente non troverà mai la linea occupata. Abbiamo dato anche un numero che rimarrà per sempre al COC, che è il prefisso di Fano 0721 887 911 rimarrà sempre questo e soprattutto quando le persone chiamano non troveranno più occupato perché come al CUP vi diranno sei il venticinquesimo, sei il quinto e quindi sapete di essere in linea, prima o poi verrà risposto e da lì in poi la chiamata verrà presa in carico dai funzionali del comune.